ah mi sa che è pericoloso facciamo così tanto si può fare si prende il pilastro laterale vabbè se mi hai tirato da un per terra tu hai il numero 6 qual'è la mia qual'è la mia qual'è la mia qual'è la mia? 6, 8 ah quella di la? e la mia è di la bene fans siamo qua sulle pit bike ragazzi mi raccomando riscaldate bene bene fans abbiamo iniziato il riscaldamento siamo all'Ario Motorsport a Colico in questa fantastica pista indoor e un pezzo anche outdoor che oggi però è chiusa perché è pieno inverno e fa troppo freddo fuori questa pista è su due livelli è veramente una figata incredibile e la cosa bella è che potete girare in moto anche in pieno inverno senza congelarvi adesso davanti a me luna che sta zizzagando su mie indicazioni per scaldare un po' le gomme e facciamo ancora un mezzo giro così a zizzagare e poi direi che ci partiamo lanciati buttati giù buttati giù buttati giù non cade la moto non frenare non frenare butta giù il ginocchio gira col ginocchio sono caduto dove sei? sono caduto dove? e al tornante ho fatto raffreddare troppo le gomme e sono caduto aiuto attenzione adesso con l'aggressività non riesco a passarti eh non riesco a passarti eh no 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 Grazie a tutti.